ciao a tutti amici del bettolino e benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di incubatrici nello specifico le t49 della river system inoltre vi parleremo della nostra scelta di incubare nel periodo più sbagliato dell'anno e quindi eccoci ragazzi questa è la nostra incubatrice che normalmente viene venduta separatamente dal sistema di umidificazione automatica nebula che riteniamo essere un ottimo elemento in più e lo andremo a vedere insieme successivamente dove andare a posizionare la macchina secondo noi luogo ideale casa vostra dove la temperatura più o meno oscilla tra i 25 e i 27 gradi lontano da correnti d'aria e soprattutto dall'esposizione diretta alle raggi solari come ottenere un'ottima schiusa e come incubare con le t49 river system allora prima cosa è necessario nei primi 18 giorni mantenere un'umidità nei primi 18 giorni di incubazione ovviamente mantenere un'umidità compresa tra la 45 e il 55 per cento successivamente invece dal diciottesimo giorno in poi quindi nella fase di schiusa aumentate l'umidità tra il 60 e il 70 per cento possiamo spingerci anche oltre se stiamo incubando uova di marans questo perché il guscio è nettamente più spesso e un'umidità più alta aiuterà a renderlo più morbido e quindi favorire la nascita dei vostri cucini per quanto riguarda invece la temperatura la macchina è settata di default a 37 7 gradi la temperatura necessaria alla schiusa dei nostri cucini questa temperatura è adatta sempre nei primi 18 giorni dopodiché negli ultimi tre giorni di schiusa noi consigliamo di abbassare la temperatura fino a 37 e 2 altro aspetto fondamentale è quello di garantire alla macchina un normale flusso di circolazione dell'aria per questo motivo quindi è vietato andare a coprire la macchina con dei panni o con dei tessuti sia sopra che sotto la macchina utile potrebbe essere invece andare a inserire un pannello in polistirolo così da isolare la macchina stessa chi ben comincia è a mettere dell'opera quindi è sicuro che se volete incubare e ottenere dei risultati ottimali dobbiamo stare attenti a quelli che sono i primi aspetti dell'incubata è necessario sicuramente avviare la macchina almeno due ore prima così da favorirne il riscaldamento e l'installazione del corretto grado di umidità all'interno della macchina così che sia poi pronta ad ospitare le nostre uova feconde una volta che i parametri della macchina saranno a regime sarà possibile inserire le uova feconde all'interno degli alveoli della macchina questi collegati al girauova nei primi 18 giorni inizieranno a far oscillare le uova simulando così il gesto naturale delle nostre cocche in questo periodo sarà necessario tenere sotto controllo tutti i parametri della macchina e se non avete installato il sistema per il controllo automatico dell'umidità nebula a questo punto sarà necessario riempire la vaschetta dell'acqua posta sul fronte della macchina questo per tenere sotto controllo l'umidità durante le varie fasi di incubazione dopo 18 giorni sarà invece necessario oltre a fermare il girauova sostituire gli alveoli con la griglia di deposizione riempire anche la seconda vasca per aumentare appunto l'umidità come vi dicevo prima tutto questo ragazzi non ci crederete ma con nebula non è necessario perché ve l'ho detto allora perché non tutti avete nebula a casa e invece adesso potete scoprire i vantaggi che apporta questo sistema la vostra t49 e allora parliamo di nebula e il sistema di nebulizzazione ad ultrasuoni di river system per il controllo dell'umidità all'interno della macchina in maniera automatica come vi ho già detto prima cosa vuol dire in poche parole una figata pazzesca cioè che non farete più niente nel senso che i due contenitori qui davanti non andranno più rabboccati pensa a tutto questo oggettino qui viene anch'esso riempito d'acqua verrà impostata la percentuale di umidità che vogliamo settare all'interno della macchina e questo interverrà ogni qualvolta che l'umidità scende al di sotto dell'intervallo impostato con il sistema di ultrasuoni l'acqua verrà trasformata in vapore che attraverso il tubo entrerà all'interno della macchina a ripristinare il clima ideale alla schiusa detto questo abbiamo ottenuto un ottima percentuale di schiusa quest'anno grazie alla river system anche se abbiamo deciso di incubare nel periodo più sbagliato dell'anno questo non vuol dire però non ottenere buoni risultati questi sono i nostri pargoletti nati solo sette giorni fa che oggi sono qui un po liberi di scorrazzare al bettolino per iniziare a prendere i primi raggi diretti del sole insomma e restare un po all'aria aperta sono un po spaventati ma sono bellissimi questi sono due maras e lui è un piccolo di araokana e allora abbiamo parlato di tutto non abbiamo parlato di qual è il periodo migliore per incubare domanda che tutti mi state facendo in direct di sicuro non è agosto fa un caldo tremendo io qua sto soffrendo già solo a registrare questo video si può fare ma nel periodo migliore il periodo migliore per incubare le vostre uova feconde sono i primi mesi dell'anno e tutta la primavera questo non vuol dire che non si può incubare in estate semplicemente in primavera avremo dei risultati migliori che in estate questo sempre parlando di uova spedite perché se andiamo a parlare di effettuare un incubata con delle uova di proprietà o comunque reperite in loco dal vicino allevatore cambia tutto quello che vi posso dire sicuramente che durante l'estate i pulcini avranno uno sviluppo un po più complicato o comunque più lento per via del fotoperiodo ristretto rispetto alla primavera quindi godono di un periodo di ore di luce molto più esteso e quindi crescono meglio con l'arrivo dell'estate e il terminare dell'estate ovviamente il fotoperiodo diminuisce e questo comporta un più difficoltoso sviluppo dei vostri animali inoltre le temperature sono molto elevate e durante l'incubazione possono sorgere alcuni problemi noi abbiamo voluto provare abbiamo fatto la nostra esperienza e oggi vi diciamo incubare sì o incubare no ni nel senso che è possibile soprattutto se siete costretti se avete la necessità o semplicemente come noi avete delle uova dove il loro periodo adatto all'incubazione massimo dieci giorni dalla deposizione e quindi decidete di incubare senza avere grosse aspettative in termini di percentuali di schiusa noi l'abbiamo fatto abbiamo avuto un 65 per cento di schiusa delle nostre uova che in termini di incubazione è un ottimo risultato non senza problemi quindi qualche pulcino è nato con le gambe di varicate per via della troppa umidità la elevata temperatura estiva compromette appunto un po' lo sviluppo e farà sicuramente soffrire penare un pochettino i nostri animali quindi vi consiglio di tenerli in luogo fresco e asciutto per quanto possibile in modo tale da dare loro un ambiente il più possibile ideale alla loro crescita i risultati sono stati come dicevo più che discreti quindi per noi potete incubare se avete modo di farlo nei primi mesi dell'anno per tutta la primavera ed eventualmente rimandare le incubate estive a settembre sarà sicuramente meglio avrete un migliore risultato ripeto la differenza si vede su uova che hanno subito un trasporto se avete uova vostre di proprietà o reperite con un trasporto in macchina da voi per pochi metri pochi chilometri da un allevatore di fiducia sicuramente potete incubare con tranquillità aspettandovi anche buoni risultati certo è che nessun allevatore serio vi spedirà le proprie uova durante l'estate uno perché mi aspetto che avrà carenza di uova perché per via degli ordini precedenti ha venduto gran parte delle uova delle proprie cocche e in secondo luogo proprio per etica professionale perché è cosciente del fatto che inviarvi uova feconde nel periodo estivo compromette sicuramente la schiusa la percentuale di schiusa perché già il trasporto riduce la fertilità delle vostre uova al 30% senza tenere conto che durante l'estate i galli anche i più prolifici coprono meno le vostre cocche e quindi la percentuale di uova fertili sarà molto inferiore a quella che potrete aspettarvi quindi la quantità di uova bianche sarà sicuramente superiore detto questo penso di aver parlato un po' di tutto di avervi anche un po' annoiati per cui ciao ragazzi ah scherzavo che ciao un commento al video mettete pollicioni in su registratevi al canale e se vi è piaciuto il video dite solo nei commenti ciao amici del Bettolino la campanella la campanella per essere avvisati con le notifiche ogni volta che esce un nuovo video la campanella ragazzi